Oggi è venuto a mancare una persona molto importante nel panorama culturale italiano e sicuramente internazionale, il maestro Andrea Camilleri. Di chi sa stare sempre in una posizione critica, quindi con analisi, con un pensiero critico sempre molto profondo, lucido, questa mente proprio adamantina. A noi piace ricordarlo anche per questo ultimo testamento che ci ha lasciato. Quindi maestro a tutto tondo, maestro di penna, maestro di logica, maestro di politica. Grazie ad Andrea Camilleri.